Ha preso oggi il via al porto turistico Marina di Pescara, la tre giorni di visionaria, la Kermess dedicata all'innovazione, che vedrà la presenza di oltre 50 speaker, 12 start-up finaliste e la presenza di studenti, partner tecnologici nazionali ed internazionali. Ospiti sono arrivati nella nostra regione dalla Croazia, dalla Spagna, dalla Bosnia, Herzegovina e dagli Stati Uniti. L'Adrietic Innovation Forum, organizzato dalla Camera di Commercio di Chieti Pescara con il supporto di agenzia di sviluppo PID.impresa Digitale e Innovallei, si chiuderà venerdì 19 novembre. Questa visionaria, così come l'abbiamo chiamato, è un momento di incontro tra ricercatori, gente che ha una voglia di fare politica, con la Camera di Commercio italiana e con quella del standard dell'Adriatico, con il mondo dell'università, con i giovani. Praticamente sono tre giorni di incontri per dare un contributo reale alla crescita del nostro Paese. Nella giornata di oggi e anche nei prossimi giorni, in questi tre giorni di appuntamenti, Presidente, si vedranno anche le eccellenze dei nostri giovani che rappresentano il futuro. Certamente, ci sarà anche il concorso delle start-up, ne sono un numero significativo, dove vedremo il grande lavoro che i nostri giovani hanno fatto.